Che sia una faccenda italiana a questo punto è così, nel senso che il governo fa finta di litigare ma la Tav la faranno e purtroppo questa non è una bella notizia per il nostro paese, perché noi avremo bisogno di 2 miliardi di euro per mettere in sicurezza il paese, anche per contrastare i cambiamenti climatici, invece questi vanno a distruggere altre montagne, distruggere altre foreste, adesso fanno vedere che litigano, ma il Movimento 5 Stelle abbiamo visto che ormai, dopo aver dato addirittura il dinego all'autorizzazione al processo penale per Salvini, penso che ormai sono diventato uno sgabello politico ben cementificato nei confronti di Salvini, quindi faranno anche la Tav, purtroppo.